Schianto in strada del Friuli questa mattina poco prima delle 7 all'altezza di via Bison, due i feriti, un motociclista è andato a impattare contro la fiancata di un'auto. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara. La conducente 46enne della macchina, una Alfa Romeo rossa, stava scendendo da via Bison e impegnava l'incrocio con strada del Friuli prima dello stop. Il motociclista invece, un uomo di 56 anni, stava salendo strada del Friuli verso il faro della vittoria ad alta velocità e ha centrato l'Alfa Romeo violentemente, tanto che l'auto è ruotata di 180 gradi. Il motociclista è stato disarcionato schiantandosi sull'asfalto dopo un volo di 20 metri. La moto è stata completamente distrutta e entrambi i conducenti sono a Cattinara, quello in peggiori condizioni è il motociclista. La strada, per consentire i rilievi, è stata chiusa fino alle 9 di mattina. Sul posto due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Incidente stradale anche questa notte, alle 3.30, in via Bonarroti a Trieste, una Fiat 600 con alla guida una ragazza di 21 anni per cause da accertare è andata a sbattere contro altre autovetture in sosta per poi capottarsi su un fianco. I vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste hanno estratto dall'abitacolo la malcapitata che poi è stata presa in cura dal personale sanitario. Sul posto anche la polizia di Stato.